La moglie di Rocco Siffredi aiuta il figlio a sutinder le ragazze con cui uscire, guarda. Rose Satassi vuole controllare di persona chi siano le pretendenti di Lorenzo. Tornato single. La moglie di Rocco Siffredi, che dall'attore porno ha avuto anche Leonardo. 23 anni, aiuta così il figlio a scegliere sutinder le ragazze con cui uscire. Il 27enne i primi di aprile si è lasciato con la sua fidanzata storica, Laura Medcalf. Ungherese, i due sono stati insieme per ben 12 anni. Quando è iniziata la loro storia d'amore erano praticamente bambini. Lorenzo Tano sul social posta un breve video, mostra la madre che, attenta, scorre i match da lui avuti su Tinder. Match significa che due persone si mettono like a vicenda sulle foto presenti nei rispettivi profili. Il ragazzo ne ha ricevuti tantissimi. Mia madre che approva le ragazze, spiega Lorenzo. La 50enne, scrupolosa, controlla uno a uno pure i profili delle donne che vorrebbero conoscere il figlio. Non lascia nulla al caso. Lui, dal canto suo, si sta guardando intorno. Sempre via social ha confessato che vorrebbe trovare l'anima gemella. Pochi giorni fa ha avuto il suo primo date, un appuntamento, con una fortunata. Evidentemente è stato solo esplorativo, la scintilla non è ancora scoccata. Ma ci pensa Rozza a decidere per quella giusta.